Questa me l'ero tenuta per un po' perché non so se posso parlare di programmi televisivi però che cazzo certo che posso, al limite non dico il nome perché ci sono questi programmi televisivi che io li guardo, li guardo così, ma li guardo sono interessanti, sono divertenti, portano gente al tatuaggio, aumentano un po' la cultura relativamente però sì, vale la pena di parlare perché secondo me le implicazioni di questi programmi televisivi hanno dei risvolti drammatici veramente drammatici allora partiamo dal punto di vista non dei tatuatori ma dei clienti allora, tanto li chiamano tele, tele, sono dei cazzo di esseri umani tela de che, anche se però bisogna ammettere che una persona che decide di andare in un programma televisivo per avere un tatuaggio gratis, sapendo che ci sono dei tatuatori che tra di loro si scelgono in modo da mandare quello che è meno bravo in un soggetto, in uno stile proprio da quel cliente che vuole proprio quella roba lì e quindi dovrebbero sapere che le possibilità che il suo tatuaggio se non una merda sia fatto male sono altissime quindi diciamo che questi clienti non è che brillano proprio di intelligenza e tra l'altro l'implicazione dal mio punto di vista anche un po' drammatico è che fa passare l'idea che chiunque può fare qualunque cosa e non è vero se vedete questi programmi succedono delle robe tremende soprattutto all'inizio perché poi verso la fine magari un po' si scremano poi ci sono quelli che gli va di culo e arrivano in finale di puro culo però vabbè ho perso un po' il filo del discorso comunque le implicazioni sono drammatiche perché appunto mettono nella testa della gente che chiunque possa fare qualunque cosa che non è vero non è assolutamente vero e l'abbiamo visto al di là di quello mettono nella testa della gente l'idea che il cliente ha sempre ragione il cliente non è vero che ha sempre ragione se tu non sai fare l'impianto idraulico se non sai fare una cosa che ragione vuoi avere? non lo sai è la stessa cosa l'arte se ti rivolge a qualcuno che sa disegnare che ha una formazione artistica eccetera è chiaro che se vai da quello che fa i ghirigori dei bambini vabbè mi piace non mi piace certo il cliente ha ragione mi piace non mi piace ma a volte gli piacciono delle cose vabbè a parte questo oltre a questo perché il cliente ha sempre ragione devi fare quello che ti chiede il cliente sì ma se ti chiede una boiata una cosa impossibile voglio la cappella sistina in 4 cm per 2 e non hai ragione e mi spiace non hai ragione non si può fare Michelangelo sarebbe il primo a dirti ma vaffanculo tra l'altro di Michelangelo bisogna ricordare quell'aneddoto bellissimo dove c'era il committente del David che gli diceva ma il naso mi sembra un po' così lui è salito con un po' di polvere di marmo in mano e l'ha lasciata cadere per fargli credere che lo accontentava ma in realtà non ha fatto un cazzo il coglione ha detto ah sì adesso mi sembra molto meglio perché a volte il cliente ha semplicemente voglia di mettere il becco per sentirsi un po' autoritario per sentire che anche lui è partecipe dell'opera però a parte tutta sta roba qua cioè 6 ore per fare il tatuaggio ora sto poverino magari resiste solo 4 ore solo 3 no 6 ore stai sotto e stai zitto sei venuto per un tatuaggio gratis non mi rompere i coglioni fatti tatuare oppure vuoi la schiena tutta tatuata no non si può 6 ore vaffanculo uè che cazzo vuoi sei qua per fatti fare il tatuaggio gratis e stai zitto 6 ore soffri come un cane e chi se ne frega per preparare il disegno 2 ore cioè ok in 2 ore si può preparare uno stencil ben fatto si può preparare un bel disegno però c'è un detto che dice l'arte non chiede tempo se vuoi creare un'opera d'arte qualcosa di bello e stiamo parlando di esseri umani di qualcosa che resta sulla pelle della gente per sempre cazzo io voglio prendermi il tempo che voglio per creare una cosa e mica in 2 ore ok magari sono un ottimo disegnatore ma non ho mai disegnato che ne so un bufalo che che si scontra contro una locomotiva cazzo fammi fare un po' di studi fammi trovare dei riferimenti fammi documentare un attimo su come è fatto un bufalo come reagisce la la lamiera quando si scontra con qualcosa che cazzo fammi fare un po' di studi in 2 ore devi preparare il disegno dopo tutta sta roba che tra l'altro hanno fatto anche lo spettacolo dove le tele i geni che decidono di farsi tatuare in questo programma si lamentano che cazzo ti lamenti e poi divertente quel programma lì perché non è che gli risolvono il problema del tatuaggio fatto di merda no si fanno tatuare dagli stessi che hanno fatto un tatuaggio che non gli piace o di merda e per un altro tatuaggio gratis ma si va bene mi tengo la merda però ne ho un altro gratis ma cazzo veramente la fiera dell'idiozia dopo tutta sta roba qua dopo tutta sta lotta io scelgo il tatuatore meno bravo lo mando da questo gli faccio fare quella cagata lì eccetera se il tatuaggio viene male viene giudicato vabbè viene giudicato comunque dalla giuria fatta di 3 personaggi interessanti allora 2 sono dei tatuatori che lasciamo perdere sulla qualità e giudicano in base alle proprie idee e al proprio gusto non in base all'arte in genere proprio no solo il loro gusto in genere traditional se non fai traditional non sei capace ma va caghera vabbè e l'altro che non è neanche un artista sì vabbè è un artista è un è un musicante però cazzo è uno che è coperto di merda che cazzo vuoi che però vabbè questi giudicano per filo e per segno il tuo lavoro e se non gli va bene ti guardano male ti mandano a casa dicendoti che tu a quella roba lì ci devi pensare perché resta sulla pelle della gente per sempre cioè mi stai prendendo per il culo dopo tutta sta sto circo che abbiamo fatto ste puttanate cazzo 40 minuti di troiate e poi negli ultimi 5 minuti mi dici no ma devi pensarci perché resta sulla pelle per sempre ma mi state prendendo per il culo quindi ragazzi quando guardate questi programmi non pensate di aver capito tutto del tatuaggio quelli sono spettacoli televisivi pensati e fatti per intrattenervi fanno anche litigare i tatuatori gli dicono dai fai il figo dai litigate un po' che così l'audience va su perché cazzo alla gente gli piace vedere la gente che litiga sì non lo so perché perché ci avete dei problemi e comunque quando venite in studio non venite a dirci e so tutto dei tatuaggi perché ho visto tutti i reality dei tatuaggi dai per piacere di tatuaggi Grazie a tutti.